Noi dobbiamo dare continuità al nostro percorso di lavoro, sapevamo che eravamo alla ricerca di tornare al risultato positivo anche perché qualcosa non era girato per il verso giusto anche sul piano della fortuna, ma anche perché abbiamo avuto qualche piccola problematica individuale in qualche ragazzo che dovevamo mettere a posto, ne abbiamo approfittato la sosta. Ora cerchiamo di dare continuità a questo percorso di lavoro e nello stesso tempo però sapendo che affrontiamo squadre sicuramente di caratura elevata. L'Inter è una squadra molto forte anche fisicamente, è una squadra molto strutturata, una squadra esperta, una squadra che ha grande qualità e abilità. Mancini l'ha costruita a sua immagine e volontà e quindi in questo percorso di un anno e qualche mese che è sulla panchina dell'Inter è chiaro che in questo senso ha avuto modo di plasmarla. Sicuramente è una partita molto difficile per noi, lo dicono le caratteristiche di questa squadra, che il Palermo dovrà affrontare con entusiasmo, con organizzazione, cercando di fare una partita, come diciamo spesso noi, perfetta per poter fare il risultato, perché è una squadra che basta o niente ti può creare fastidio. No, noi cercheremo di andare in campo, comunque di fare quello che da qualche anno a questa parte cerchiamo di portare in campo, come mentalità, come atteggiamento, come modo di prendere le partite sul piano dell'organizzazione, sia nella fase difensiva ma anche e soprattutto nella fase offensiva. a Bologna sul nostro gol di vantaggio, se andiamo a rivedere l'azione, c'erano sei uomini nell'area di rigore avversaria. Questo per me vuol dire al di là di quante punte un allenatore fa giocare, cinque punte o zero, ma conta la partecipazione anche di arrivo alla fase d'attacco nel momento in cui la squadra va a concludere. Quindi in questo senso andiamo ad aprire un discorso che voglio che le mie squadre abbiano di mentalità, di atteggiamento giusto, anche propositivo nel momento in cui siamo in fase di possesso palla. Dovremmo necessariamente fare una partita perfetta, ma nello stesso tempo non essere solo passivi, perché è chiaro che se pensi di poter andare a fare una partita dove non vai a creare anche tu dei presupposti per far gol, le partite in Serie A sono poche quelle che finiscono 1-0, tornando un po' al discorso di quello che ci è successo in questa prima parte di campionato, per far punti, anche per pareggiare, a volte in questa categoria ti occorrono due gol, perché dall'altra parte trovi giocatori molto forti e bravi qualitativamente, che anche con una palla inattiva ti possono andare a spostare l'ago della bilancia della gara stessa. Noi abbiamo delle caratteristiche, andiamo in campo, è vero che dobbiamo dare uno sguardo ai nostri avversari, ma è anche vero che dobbiamo andare in campo e cercare di proporre quello che sono un po' le nostre armi, quello che possiamo mettere in campo noi, facendolo con fiducia, rispettiamo ovviamente i nostri avversari, ma poi dobbiamo fare quello per cui lavoriamo da tempo, per cui siamo predisposti ad andare a giocare.